Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ti do il benvenuto a questa nuova puntata, in cui ti farò vedere il flusso di gioco di Riders of the North Sea. Se vuoi conoscere componenti del setup, puoi cliccare sul link in alto. In descrizione trovi tutti i link invece per andare ai momenti più importanti di questo video. Sei ancora qui? Andiamo a ricominciate allora. Il gioco si svolge in round, dove ogni giocatore, partendo dal primo, completa il suo turno posizionando un lavoratore svolgendo un'azione, e poi prendendo un lavoratore diverso dal tabellone svolgendo un'altra azione. È possibile prendere o assegnare un lavoratore senza fare l'azione. Comunque ogni azione può essere fatta una sola volta. Puoi scegliere tra fare azioni al villaggio, oppure razziare gli insediamenti. Prima di iniziare, comunque, diamo un'occhiata agli spazi azione e vediamo come si svolge un saccheggiamento. Ma se vuoi puoi cliccare sui link in descrizione per andare direttamente al primo round. Questo è il corpo di guardia. Accetta qualsiasi lavoratore e ti permette di pescare due carte dal mazzo. Ricorda che nel tuo turno puoi avere un numero illimitato di carte, ma alla fine del turno devi scartarne per tornare a un massimo di 8. La sala comune accetta qualsiasi lavoratore e ti permette di giocare una carta dalla tua mano usando l'azione in basso a destra. La carta viene messa nella pila degli scarti. La tesoreria accetta qualsiasi lavoratore e ti permette di ottenere due monete scartando una carta dalla tua mano oppure un oro scartando due carte dalla tua mano. Li prenderai dalla riserva e le carte le metterai in una pila degli scarti. La caserma accetta qualsiasi tipo di lavoratore e ti permette di arruolare un membro dell'equipaggio dalla tua mano pagando alla riserva le monete e mettendolo di fronte a te o in uno spazio libero sulla tua plancia. Non puoi mai avere più di cinque membri dell'equipaggio ma puoi scartarne uno per fare spazio ad un altro. L'armeria richiede un lavoratore grigio o un lavoratore bianco e non accetta quelli neri. Spendendo una risorsa a ferro ti permette di ottenere due punti sul tracciato armatura oppure un punto spendendo due monete. Il mulino può ospitare qualsiasi lavoratore ed ognuno ha un effetto diverso. Un lavoratore nero ottiene una provvista, un lavoratore grigio ottiene due provviste, mentre un lavoratore bianco ottiene due provviste oppure un oro. L'argentiere accetta qualsiasi tipo di lavoratore. Un lavoratore nero ti fa ottenere tre monete, mentre un lavoratore grigio o bianco ti fanno ottenere due monete. La casalunga accetta solo lavoratori grigi o bianchi e ti dà due opportunità tra cui scegliere. Puoi scartare una risorsa bestiame per ottenere due provviste prese dalla riserva, oppure puoi risolvere una tessera offerta al capo del villaggio. Scegli quindi una di queste e paga alla riserva ciò che ti richiede, quindi prendi la tessera e tienila a faccia in giù nella tua area di gioco o nello spazio appropriato sulla tua plancia. Infine pesca una nuova tessera per riempire lo spazio che si è svuotato. Quando decidi di saccheggiare un insediamento ci sono tre prerequisiti che devi soddisfare. Devi avere un equipaggio abbastanza grande indicato dal numero di questi simboli, devi avere abbastanza provviste e oro in caso di monasteri o fortezze. In più il lavoratore richiesto. Questi sono i punti vittoria che ottieni e in alcuni casi come questo puoi ricevere punti vittoria in base al tuo potere militare. Se trovi questo simbolo devi anche lanciare un dado. A prescindere dal risultato del dado comunque l'insediamento è saccheggiato. Prendi quindi le risorse e il lavoratore. Ricorda che le provviste si scartano e per ogni valchiria che incontri un membro del tuo equipaggio morirà. Le risorse finiscono nella tua riserva mentre invece le valchirie nella riserva generale. Quando un membro del tuo equipaggio muore metti la carta nella pila degli scarti e controlla se eventualmente si attiva una sua abilità. Ora diamo inizio alla partita. Determina casualmente il primo giocatore lanciando i dadi e poi il gioco prosegue in senso orario. Il giocatore verde decide di piazzare il suo lavoratore nero nelle baracche. Quindi ora può aggiungere al suo equipaggio una carta dalla sua mano. Decide di reclutare questa pagando due argento. Ora che questa carta è attiva ogni volta che recluterà altro equipaggio pagherà un argento in meno. Come seconda azione decide di prendere il lavoratore nero dal corpo di guardia e pescare due carte. Mette il lavoratore in riserva e qui le due carte appena pescate. Il giocatore giallo usa il suo lavoratore nero dall'argentiere e ottiene 3 argento. Dopodiché decide di arruolare questo membro dell'equipaggio pagandolo 4 argento prendendo questo lavoratore dalle caserme. Lo mette qui e prende l'argento dalla sua dotazione e lo rimette in riserva. Ora fa parte del suo equipaggio ma se questo personaggio viene ucciso durante un saccheggio le morti si conteggiano due volte sul tracciato valchirie. Il giocatore rosso usa il suo lavoratore nero sulle caserme per arruolare questo personaggio che gli permette di ottenere un argento dopo che ha svolto l'azione alla tesoreria. Paga un argento che rimette in riserva e mette qui la carta. Dopodiché decide proprio di fare un'azione nella tesoreria prendendo il lavoratore. Scarta una carta e ottiene 2 argento ma ne ottiene uno in più proprio grazie alla carta che ha appena messo in gioco. Ricorda che alla fine del round non puoi avere mai più di 8 risorse, 8 provviste e 8 carte nella tua mano. Ora vediamo come si svolge un saccheggio. Questi spazi ospitano lavoratori neri o grigi e lui piazzerà il suo lavoratore nero. Spende le 2 provviste dalla sua riserva ed ottiene questo bottino. In questo bottino però c'è anche una valchiria quindi il giocatore verde deve perdere anche un membro del suo equipaggio e sceglierà di perdere questo che verrà messo nella pila degli scarti. Quindi prende il lavoratore grigio e lo mette nella sua area di gioco e ottiene un punto vittoria. Ora siccome il giocatore verde ha perso durante un saccheggio un membro del suo equipaggio guadagnerà un punto sul tracciato valchiria. Poi siccome nel suo equipaggio ha questo eroe che gli permette di ottenere un punto forza per ogni due valchirie che ottiene, la valchiria che ha appena preso la terrà insieme alle sue risorse. Il gioco prosegue in questo modo finché non si verifica una di queste condizioni. Delle 6 fortezze ne rimane solo una con delle risorse, non ci sono più valchirie sul tabellone, oppure il mazzo di pesca delle tessere offerta è finito. In qualunque caso il giocatore attuale finisce il proprio turno completando le sue azioni. Dopodiché ogni giocatore ha un turno ulteriore prima che finisca il gioco. E questo era il flusso di gioco di Riders of the North Sea. Ora se vuoi restare un altro pochino con me andiamo a vedere a fine partita se è rimasto qualche villaggio in piedi o se è tutto quanto in fiamme e facciamo il conteggio finale dei punti. Altrimenti se sei soddisfatto ti ringrazio per aver guardato questa puntata ma se hai dubbi o domande mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia e ci vediamo alla prossima. Eccoci arrivati a fine partita che è terminata perché si è esaurito il mazzo delle tessere offerta. Ora proseguiamo con il conteggio dei punti. Per prima cosa i punti derivati dal livello sul tracciato Valkyrie. Il giocatore verde e il giocatore giallo ottengono 7 punti mentre invece il giocatore rosso non ottiene nessun punto. Poi assegniamo i punti in base al livello raggiunto sul tracciato armatura. Il giocatore giallo e il giocatore rosso ottengono 2 punti perché hanno superato il livello 3 mentre invece il giocatore verde non ottiene nessun punto. Ora si scoprono le tessere offerta che sono state collezionate durante la partita e si scopre quanti punti si ottengono. Il verde ottiene 22 punti. Il giocatore giallo ottiene 10 punti. Il giocatore rosso ottiene 26 punti. Ora i membri dell'equipaggio. Alcuni infatti possono darti punti vittoria a fine partita. Il giocatore giallo ha questa carta che gli fa ottenere 3 punti a fine partita. Da qui continua a contare i punti dallo 0 girando questa carta dal lato dove c'è scritto 50. Il giocatore rosso grazie a questa carta ottiene un punto vittoria ulteriore per ogni tessera offerta per un totale di 7 punti. Infine si ottiene un punto per ogni oro che si possiede, un punto per ogni ferro che si possiede e un punto per ogni due bestiame che si possiede. Il giocatore verde ottiene un punto. Il giocatore giallo ottiene 2 punti mentre il giocatore rosso per questa categoria non ottiene alcun punto. Vince questa partita di Riders of the North Sea il giocatore giallo con 53 punti. In caso di parità il giocatore che è più in alto sul tracciato delle valchirie è il vincitore. In caso di ulteriore parità il giocatore che è più in alto sul tracciato armatura sarà il vincitore. E questo è davvero tutto. Io ti ringrazio per aver guardato questa puntata ma se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia e ci vediamo alla prossima.